Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Nella spaventosa realtà della violenza di genere, argomento di cui tutti parlano nelle ultime settimane dopo i drammatici episodi di cronaca, c'è una platea silenziosa di vittime innocenti, coloro che rimangono e che devono di fatto andare avanti. Parliamo ovviamente non soltanto dei familiari ma soprattutto dei bambini, gli orfani di femminicidio non se ne parla spesso ma sono forse le vittime più silenziose, le vittime più importanti di questi drammatici episodi. Chi si prende cura di loro? È giusto dire loro la verità, ammesso che ci sia una maniera più corretta per dirlo. In sostanza, in parole povere, chi tutela questi bambini che vengono di fatto privati di entrambi i genitori? Ne vogliamo parlare nel dettaglio, approfondire questo tema con l'avvocato Licia D'Amico, cofondatrice dell'Associazione Insieme a Marianna, che è stata già nostra ospite qui a non solo Roma in diverse circostanze, proprio per parlare di violenza di genere e di tutela delle donne. Buongiorno avvocato, ben trovata. Buongiorno a voi e grazie sempre dell'invito. Grazie a lei per la sua preziosissima disponibilità in questo spazio. Allora, io e lei, avvocato, ci siamo sentite qualche giorno fa e abbiamo parlato, abbiamo accennato un po' a questo tema molto delicato, molto importante, perché si parla tantissimo di violenza sulle donne, argomento fondamentale, perché più se ne parla e più forse si riesce ad arrivare ad una sorta di quadra. Però si parla poco, effettivamente, avvocato di chi rimane, quindi dei bambini, degli orfani di femminicidio. Come mai, secondo lei, in prima battuta le chiedo, si pone così poco l'attenzione sui bambini? Ma intanto è un problema molto serio quello che lei depone, perché il femminicidio sovente, anzi nella maggior parte dei casi, è l'atto finale di un'escalation di violenza e di una serie di reati, quelli che noi chiamiamo i reati sentinella, i reati campanello, che si verificano all'interno delle mura domestiche e che spesso avvengono sotto gli occhi dei figli e dei bambini, che talvolta sono anche proprio bambini molto piccoli, e che arrivano quindi al femminicidio, che vede assassinata la loro madre e il loro padre in carcere, già con un fardello piuttosto consistente, se dobbiamo dire, di violenza assistita, cioè di episodi di violenza a cui hanno dovuto loro malgrado assistere. Il femminicidio poi è il momento culminante, il momento della tragedia, del dramma, e questi bambini sovente restano soli, salvo casi fortunati in cui c'è un circuito familiare che è in grado di accoglierli, nella maggior parte dei casi devono invece trovare aiuto e accoglienza in un sistema extra familiare, e questo è un po' un dramma nel dramma. Sono tanti gli orfani speciali, così li chiamiamo, l'espressione non è tecnicamente corretta, l'espressione utilizzata dal legislatore è orfani di crimini domestici, ma c'è questa locuzione che un po' tutti gli operatori utilizzano di orfani speciali, perché speciali sono i loro diritti e speciali sono i loro bisogni, e non ce lo dobbiamo mai dimenticare, stiamo parlando di circa 200 bambine e bambini l'anno, quindi un numero veramente molto consistente. Assolutamente, infatti non ci sono dei numeri esatti, io leggevo che sono all'incirca 270, il numero più alto si concentra soprattutto nel Sud Italia, avvocato. Ecco, al di là di questa introduzione veramente ricchissima che lei ci ha fatto, e molto dettagliata, a livello legale di fatto come vengono tutelati questi bambini, nel caso in cui non ci siano familiari di riferimento? Lei diceva che vengono affidati a delle strutture extra, no? Ma guardi, in realtà, overbile, si cerca di lasciarli in un circuito in qualche modo prossimo, vicino alla famiglia, e quindi quando non ci sono i nonni, ci sono gli zii, o comunque un altro circuito familiare che è disponibile ad accoglierli, ma non sempre questo è possibile, anche perché accogliere un bambino o una bambina offrano speciale richiede una capacità, una disponibilità e anche una capacità economica, è consistente, sono dei bambini e delle bambine che hanno bisogni particolari, necessità particolari, attenzioni particolari, perché sono reduci di esperienze veramente drammatiche, non tutti hanno la possibilità e anche il modo, la modalità pratica di farlo, e quindi ci sono anche naturalmente, c'è anche l'ipotesi di collocamento in strutture extra familiari, come diceva lei, per esempio in case famiglia, in comunità e in alcuni casi anche attraverso il percorso della adozione. Naturalmente qui si pone una domanda immediata, un problema pratico, chi aiuta queste famiglie affidatarie, chi aiuta queste famiglie che accogliano, perché ci sono tanti problemi da affrontare, il primo è quello che tutti quanti riusciamo a percepire in maniera immediata, questi sono ragazzini che hanno vissuto esperienze drammatiche, vanno supportati con ausili per esempio di ordine psicologico, talvolta anche di ordine fisico, perché somatizzano l'esperienza brutale cui hanno assistito e vanno aiutati e accompagnati, è un percorso psicologico di uscita da un ambiente violento, non si esaurisce in poche settimane, è un percorso che ha una durata nel tempo e conseguentemente ha un costo. Lei mi chiedeva quali sono i sussidi, le tutele offerte dal nostro ordinamento, ci sono delle tutele, vedremo poi se le possiamo considerare sufficienti, ma comunque delle tutele da qualche anno a questa parte, ci sono dico da qualche anno perché la legge che ha previsto queste tutele per gli orfani di crimini domestici è del 2018, quindi se vogliamo relativamente recente, e per una serie di ragioni connesse ai decreti attuativi, è pienamente in vigore dal 2020, quindi veramente da un tempo abbastanza limitato. Questa legge prevede una serie di ausili che io, prego scusi, non ho sentito. Ho detto infatti, veramente da poco, 2020 è un tempo molto minimo, no? Sì, è così, è da poco, diciamo che anche in questo caso, meglio tardi e meglio poco che niente, ma sarebbe veramente il momento di abbandonare anche questo tipo di affermazioni e per una volta tanto riconoscere in certe situazioni che una tutela piena viene realizzata. Speriamo che questo avvenga presto nel caso degli orfani speciali. Quali sono i sussidi e gli aiuti che vengono offerti in questo momento da questa legge del 2018? Intanto è previsto un contributo economico alle famiglie affidatarie, ma questo è veramente il minimo. Immaginiamo in una famiglia normale italiana accogliere uno o più bambini che sono riusciti da un'esperienza di femminicidio è un impatto economico, materiale, non di poco momento. Questa legge prevede poi un sostegno allo studio e all'inserimento lavorativo. Sono previste delle borse di studio, sono previste dei corsi di formazione, è previsto rimborso di spese mediche ed è prevista per esempio una misura di sostegno anche in sede processuale, cioè per gli orfani di minorità o maggiorenni non economicamente autonomi è prevista l'accesso al gratuito patrocinio e quindi tutte le spese legali a carico della collettività e dello Stato in deroga ai limiti di reddito. Sono state introdotte delle norme che riguardano la successione ereditaria. Teniamo in mente che fino a non molto tempo fa il nostro sistema di successione ereditaria che è un sistema basato sulla famiglia tradizionale prevedeva che in caso di morte di un coniuge succedesse l'altro coniuge e quindi persino nella ipotesi paradossale di un rapporto di femminicidio. Il legislatore è intervenuto congruamente su questa materia spezzando una disciplina che veramente non aveva senso ed era del tutto fuori luogo, del tutto anacronistica. Un'altra possibilità prevista da questa norma è per gli orfani speciali di cambiare il proprio cognome. Ora, ciascuno di noi è individuato nel contesto sociale in cui vive con un nome e un cognome. Nel nostro sistema, tanto se ne è parlato nei mesi precedenti in tema di cognome paterno, cognome materno che si sostituisce, che si aggiunge eccetera, nella stragrande parte dei casi i bambini e le bambine assumono il cognome paterno. Che succede quando questo cognome paterno è il cognome di un femminicida? E quindi nel stesso della parola, nel nome proprio e nel cognome proprio di se stessi si porta la traccia di questo femminicidio bene, è previsto che gli orfani speciali possano con una procedura più rapida di quella prevista per tutto il resto della collettività cambiare il cognome, non avere più il cognome del genitore femminicida e assumere un altro cognome. Si tratta di una disposizione che ha trovato in casi di cronaca recenti anche applicazione, se ne comprende direi facilmente la ragione e anche la funzione. Quindi un sistema di tutele che sebbene non ancora del tutto sufficiente... C'è qualche problema forse con il collegamento con l'Avvocato Licia D'Amico, riproviamo. C'è stato un piccolo problema di collegamento, perché se fosse collegato in questo momento facciamo un piccolo riassunto, ce l'abbiamo, mi fanno segno dalla regia. Avvocato ci sente? Avvocato riesce a sentirci? Piccolo problema di collegamento. Va bene, andiamo avanti, tanto tra pochissimi istanti partirà la nostra prima pubblicità per chi si fosse collegato in questo momento. Parlavamo di una questione di cui si parla molto poco ultimamente. La violenza di genere è ovviamente sulla bocca di tutti dopo i drammatici fatti di cronaca a cui purtroppo abbiamo assistito. Però c'è anche un'altra costante in questa drammatica platea di violenza di genere, cioè chi rimane, gli orfani di femminicidio. Quali sono le loro tutele? Ne stavamo parlando appunto con l'avvocato Licia D'Amico. Bene, è riuscita a ricollegarsi di nuovo. Allora, avvocato, io devo mandare purtroppo il nostro consueto momento di pubblicità, quindi le chiedo di restare ancora in nostra compagnia in collegamento, perché tra pochissimi istanti vi farò raccontare proprio dall'avvocato una storia davvero interessante. Il nome dell'associazione di cui l'avvocato Licia D'Amico è cofondatrice insieme a Marianna narra proprio la storia di chi rimane. C'è quindi delle vittime, degli orfani di femminicidio che si rialzano e riescono a realizzare davvero i loro sogni. Quindi c'è davvero speranza. Restate qui insieme a noi in diretta sul canale 14. Torniamo tra pochissimi istanti. Bentornati a Non Solo Roma, riprendiamo immediatamente il nostro discorso. Abbiamo aperto con un tema molto delicato, gli orfani di femminicidio. Si parla tanto di violenza di genere, ma si parla molto poco di chi rimane. Questi bambini che più delle volte rimangono senza una madre, senza un padre, e dunque vanno tutelati. Abbiamo aperto questo discorso insieme all'avvocato Licia D'Amico, cofondatrice dell'associazione insieme a Marianna. Avvocato, siccome mi rimangono soltanto pochi minuti a disposizione prima di introdurre l'ospite successivo, ci terrei però che lei ci raccontasse perché la sua associazione si chiama Insieme a Marianna, perché racconta una bellissima storia, vero? Marianna Manduca è una donna di 32 anni che vive in Sicilia, a Palagonia, è madre di tre figli di 2, 4 e 6 anni. Sta attraversando una separazione tormentata, viene minacciata di morte continuamente dal suo ex marito. Ogni volta che viene minacciata denuncia, si rega da grabinieri, fa una denuncia circostanziata e chiede aiuto. Questo avviene per 12 volte. A partire da un certo momento quest'uomo le mostra un coltello e le dice con questo ti ucciderò. Lei denuncia anche questo. Nessuno l'ascolta. Il 3 ottobre del 2007, per la strada, mentre cammina nel suo paese, Marianna viene aggredita dal suo ex partner e assassinata. I suoi tre bambini non hanno un circuito familiare in cui possano essere adeguatamente accolti. Nella loro esperienza di piccoli, perché come dicevo il più piccolo ha due anni, il più grande sei, hanno già assistito tante volte a maltrattamenti, botte prese dalla madre, minacce, una condizione di violenza assistita molto forte. Il loro destino è quello di essere separati e messi in tre case famiglie. Non c'è alternativa, d'altra parte. Per fortuna a un certo punto l'alternativa compare. Ed è costituita da Carmelo Calì e Paola Giulianelli, che sono due cugini di Marianna che vivono a Senigallia, nelle Marche, a mille chilometri di distanza dalla Sicilia, che hanno già tre figli loro. Quindi una famigliola già abbastanza nutrita. Siamo nel 2007 alle porte della crisi economica che travolgerà anche l'Italia. Chiunque di noi avrebbe avuto qualche preoccupazione a prendersi da un giorno all'altro altri tre bambini così problematici in casa e a formare una famiglia numerosa praticamente con scarsissime risorse economiche. Carmelo e Paola non ci pensano un istante. Prendono questi bambini Sicilia, li portano a casa loro, vengono nominati in una prima fase tutori e nel corso del tempo sono poi i genitori adottivi dei figli di Marianna. Paola dice sempre i miei figli e in questa espressione ci sono i suoi figli biologici e i figli di Marianna esattamente in una equivalenza. La loro storia è una storia di grande generosità. I figli di Marianna oggi sono. Uno di loro si è laureato, l'altro si è diplomato e sta cercando lavoro, un altro già lavora e fa il volontario della Croce Rossa. Quindi una storia di riscatto sociale, di adesione alle finalità di solidarietà che avevano portato anche loro a uscire da una situazione tremenda. Tre ragazzi, non solo belli, motivati, interessati, sensibilissimi come ovvio al tema della violenza contro le donne. Una storia, come si dice, finita bene nella tragedia. Tre orfani speciali che oggi sono tre giovani uomini assolutamente speciali nel senso positivo del termine. Questi tre ragazzi hanno anche una caratteristica. Prego, prego. La sento. C'è qualche problema con il collegamento? Comunque per chiudere avvocato, per chi ho terminato il tempo a disposizione, ci ha raccontato questa storia davvero incredibile che ci dà davvero tantissima speranza. Io devo introdurre l'ospite successivo, voglio veramente ringraziarla di cuore avvocato per la sua rinnovata disponibilità in questo spazio, un'analisi chiarissima, poi ha concluso con questa storia davvero incredibile, quindi per me è stato veramente un piacere. Grazie davvero. Grazie a voi, grazie a voi per quello che fate. L'informazione è molto importante su questi temi. Grazie ancora. Grazie, a presto avvocato. Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani.